Il telescopio orbitante Hubble ha individuato, lontano 63 anni luce da noi, un pianeta extrasolare di colore blu, il primo al di fuori del nostro sistema solare che almeno nel colore ricorda la Terra. Si chiama HD 189733b, ma è già stato ribattezzato Deep Blue Dot, punto blu profondo. Il confronto con la Terra però termina qui. Deep Blue Dot, infatti, grande come Giove, di natura gassosa, e sembra del tutto inadatto a sostenere la vita, con una temperatura superficiale stimata in circa 1000 gradi e un'atmosfera aerea turbolenta, con venti che soffiano fino a 7000 km orari. Per determinare il colore della pianeta gli scienziati hanno usato uno spettrografo che seguendolo nel tragitto orbitale intorno alla sua stella ha permesso di misurarne la luce riflessa. Date le caratteristiche del pianeta è improbabile che il suo blu sia determinato dalla presenza di acqua o di ossigeno, molto più facile che il colore sia dato dalla presenza di particelle di silicio, ma questa è un'ipotesi ancora tutta da verificare.